Ma c'eravamo un po' tutti insieme alla Confederazione, ma la Prefettura finalmente abbiamo potuto, non che le altre volte faceva orecchie da mercante, ma oggi devo dire che c'è stata molta più attenzione da parte della Prefettura a riunire, come di fatto le richieste che abbiamo avanzato anche l'altra volta, ci dicevano oggi la Prefettura che i comuni stanno rispondendo per capire un po' come è la situazione abitativa nelle aree metropolitane. L'unico comune che ancora stanno aspettando è il comune di Catania. Noi invitiamo il comune di Catania ad essere più presenti e capire che il problema abitativo è prioritario nella gente che l'amministrazione, la politica deve avere su questa città. Noi abbiamo nel 2016, fra qualche giorno, gente che ancora ci dorme in macchina e in promiscuità. ed è una cosa grave. Ci sono dove poter recuperare alloggi. Oltretutto le stime in termini di numeri fatte dal comune rispetto a quelle fatte dal sindacato, dalle associazioni, stridono. Sì, sono due cose diverse. Perché se noi parliamo solo di emergenza, il comune potrebbe dare una grossissima risposta all'emergenza abitativa. Se poi parliamo di richiesta in linea generale dei supporti che ci vorrebbero su Catania per poter uscire o quantomeno camminare nell'ordinarietà, ci vogliono intorno ai 5 mila appartamenti. Non vanno i 5 mila appartamenti su Catania. Però sull'emergenza ce ne potremo uscire anche domani, se c'è la buona volontà. Cosa che fino ad oggi non abbiamo visto. Perché pare che appunto il numero degli alloggi eventualmente disponibili coincidano, se non addirittura superino il numero delle persone che potrebbero avere bisogno di questi alloggi. Certo, potrebbero anche superare, potrebbero, dico, uso il condizionale. Perché? Perché se mettessero in moto, potremmo dare anche di gente che ha 20 anni, che è in attesa di aver assegnato un alloggio e su queste cose ci sono chi mi collabora qua, che tutti i giorni, io magari, forse, lo sanno, gente che ha 18-20 anni. Gente che ha perso addirittura a tal punto la fiducia che neanche più fa la domanda. No, non fa la domanda anche perché, vede, fare le domande, l'aggiornamento, chiamiamolo, il riaggiornamento. L'ultimo è stato fatto nel 2015, ora, un paio di mesi fa. Ma, vede, quello là vanno a intrinsecarsi uno con l'altro. Alla fine facciamo, sì, bisognerebbe farlo ogni anno per capire questo comune, o chi è precedentemente a queste amministrazioni, che annualmente c'è una media di 1.000-1.200 persone che chiedono un alloggio di edilizia del sedenziale pubblico.